Oh, Romeo, Romeo, sei tu, Romeo? Oh, Romeo, se domani vorrai, sarò tua moglie. Hai pari recitazione? Sì. Scusa, voglio farmi un selfie. Ho comprato questo nuovo rossetto che sta promuovendo Chiara Ferragni sul suo Insta. Non sai quanto l'ho pagato, però è troppo figo. Come mi sta? Ti sta benissimo. Ma sai una cosa? Cosa? Sei sicura che dopo non ti cascano le labbra? Le labbra? Sì, mi hanno detto che questo rossetto fa cascare le labbra. Stai attenta. Oddio, dici davvero, aiuto. Oh mio Dio, che paura. Chi te l'ha detto? Bisogna visare tutti. Me l'ha detto Vanity. Ora dammelo. Lo vado a buttare. Ecco, sì, buttalo io. Se l'ha detto Vanity, sarà vero. Ma lei se ne intende di trucchi che rischi nella vita. Dio, che rischi nella vita. Ciao. Guarda questo nuovo rossetto. Tommasina lo sto facendo a provare a tutte quante. Provalo anche tu. No. Non fare quelle smorfi che ti vengono nei rughe. No. Non fare.